Ciao a tutti ragazzi, ciao da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti penso che abbiamo finito con questi video in esterna, credo, non è detto poi magari da qui a stasera ci potrebbe scappare qualcosa di nuovo però devo pure trovare il tempo di farli Allora, commentiamo queste qualifiche finalmente sono riuscito a vedere qualcosa di questo Gran Premio di Spagna tra l'altro continuo a prendere appunti perché dietro ho il monitor la cosa bellissima di questi giorni è stato vedere voi che aggiornavate me di solito succede il contrario Allora, andiamo subito al sodo e poi facciamo le considerazioni finali verso il termine di questo video Sainz secondo, Sainz secondo secondo me è la pole position per quale motivo? Perché ormai sono entrato in uno stato mentale dove do per scontata la pole e la vittoria di Perez ragazzi quindi vedere Sainz secondo mi fa davvero impressione soprattutto perché hanno appena innovato la macchina ha aggiornato la vettura e abbiamo visto, ne parleremo anche in questa puntata come nel caso di McLaren ci sia voluto un bel po' prima di capire la vettura e farla andare nella giusta direzione perché oggi abbiamo una McLaren strepitosa con Norris in terza posizione il suo compagno di squadra è entrato in Q3 ha fatto il decimo tempo però Norris terzo è veramente tanta tanta roba allora vorrei fare un applauso a Sainz diamo a Cesare quel che è di Sainz perché Sainz è stato veramente bravo in un gran premio quello di casa dove la pressione per un pilota è veramente tanta poi devo fargli complimenti pure per la tuta perché se quella di Leclerc era bella a Monaco questa lo è altrettanto e mi sa tanto di old style, di vecchia Formula 1 mi è piaciuta veramente tanto e ancora di più mi è piaciuta la sua performance la sua prestazione è una Ferrari che tutto sommato anche se ha arrancato un pochino nel Q1 e nel Q2 perché non è stata eccezionale poi in Q3 con la pista che si era evoluta tantissimo devo dire che è andata veramente bene a proposito della pista che si è evoluta poi vorrò dirvi una cosa che volevo dirla in live perché abbiamo fatto la live con Daniele su Tribuna Motori però poi tra una cosa e l'altra è scappata e quindi vi voglio raccontare anche quanto sia importante l'evoluzione della pista e quanto sia importante fare i tempi quando la pista è al suo top non solo perché fa il tempo ma anche perché per fare il tempo con la pista che non è atipica serve comunque che la vettura funzioni bene e in determinate condizioni ripeto se il video non viene troppo lungo ve lo spiegherò adesso altrimenti lo faremo poi in un video successivo comunque per un science secondo chi non ha visto le qualifiche si sta chiedendo ma Leclerc dove sta? ecco Leclerc sta a 19esimo allora io un po' come ha detto lui mi direi molto molto stupito se in vettura non trovano alcun problema perché lui ha detto che sentiva non ho capito bene quale fosse la direzione perché comunque ho seguito le qualifiche senza audio perché ho messo piano 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 però non lo sentivo perché appunto eravamo in live però non ho ben capito quale fosse la direzione della curva ma una cosa è certa lui sentiva la vettura che aveva un problema quando sterzava da un lato presumo il lato destro perché si lamentava della posteriore sinistra quindi è quella che va in appoggio quando fai le curve a destra e invece la vettura perfetta quando sterzava nella direzione opposta quando faceva le curve nella direzione opposta questo significa cosa? di solito è un problema di pneumatici pressione degli pneumatici potrebbe essere quello però li hanno verificati e non era quello e allora può capitare che hai o un problema di convergenza della vettura ma anche in quel caso viene subito rilevata o un problema di altezza da terra diversa di campanatura però sono tutte cose che di solito saltano fuori è un po' più difficile invece se la scocca ha un problema, una microcrepa un qualcosa che la fa flettere in maniera diversa e allora quando vai in appoggio nelle curve a destra in questo caso presumo ripeto che sia quello e allora lì il discorso cambia però non è detto neanche che lo scoprano durante la notte perché di solito alcune considerazioni e analisi vanno fatti poi in fabbrica però secondo me è qualcosa che riguarda la vettura io non ci credo che il pilota senda la vettura in un modo, in un tipo di curva e nell'altro tipo di curva oltretutto ha detto una cosa mi pare di aver capito che abbia detto che quando c'è stata in Q1 la bandiera rossa lui a 60 km orari sentiva lo stesso problema quindi è sicuro ed evidente che il problema c'è sono molto molto curioso di sapere di che cosa si tratta però sono contento che quando è mancato l'eclare nel senso della performance c'è stato Sainz che si è fatto valere per carità solo di un decipolo davanti alla McLaren però davanti alla Mercedes davanti all'Easton Martin quindi devo dire che veramente sono molto sorpreso da questo tipo di performance e parliamo di McLaren perché al di là del fatto che devo essere sincero mi fa piacere vedere una vecchia gloria come la McLaren lì davanti però devo dirvi che questa sua performance fa riflettere due vetture in Q3 vengono da un gran premio dove in gara sono andati bene però hanno aggiornato pesantemente la vettura a Baku quindi sono stati necessari tanti gran premi per comprendere appieno una vettura che oramai è tutta aerodinamica la maggior parte della performance arriva dal fondo della vettura che lavora in collaborazione con la parte di sopra per carità come è sempre stato direte voi però adesso veramente tocchi un niente sotto e cambia il mondo e poi la meccanica il funzionamento meccanico è al totale servizio dell'aerodinamica molto più che in passato quindi morale della favola i McLaren che stanno facendo tra l'altro un lavoro stupendo ci hanno messo veramente tanto per capire la vettura ed è quello che dico da un po' con la mancanza di test servono diverse gare per poter comprendere appieno una vettura andiamo avanti perché all'ottavo posto degno di nota è la posizione la performance fatta da Nico Hülkenberg con la vecchia F1 75 riadattata da Simone resta alla meno peggio nel senso che sappiamo tutti quali sono i limiti di budget che ha la Haas e qui ritorniamo sempre la lingua batte dove duole il dente che vuol dire vuol dire che ragazzi chi la disegna la Ferrari per il prossimo anno i nuovi tecnici che dovrebbero arrivare da Red Bull devono fare un periodo di gardening quindi chi rimane? rimane l'attuale direttore tecnico della Ferrari i due innesti che sono stati acquistati l'anno scorso e sono andati operativi ora da Red Bull ma non sono figure di rilievo importantissime Rob Marshall non è venuto perché ha preferito la McLaren e quindi c'è Tondi c'è Enrico Tondi che è una gran mente italiana però servirebbe Simone Resta scusatemi se lo dico di nuovo ho proprio la netta impressione che non arriverà in Ferrari e sottolineo non io ma Nico Hülkenberg con l'ottava posizione fatta oggi in dove? in una pista dove salta fuori la vettura cioè alla fine dei conti in questa pista se non hai la macchina non vai se la vettura funziona a Barcellona vuol dire che cammina ebbene fatta in una pista di questa poi vorrei parlare della pole position di Verstappen per carità ma chapeau nulla da dire e qui stupirò tutti coloro che sostengono che io ce l'ho con Verstappen no Verstappen si è esaltato in una pista che esalta le caratteristiche della sua vettura e che vuole un anteriore molto forte per quale motivo? perché noi abbiamo qui tutta una serie di curve una dietro l'altra una dietro l'altra veloci all'inizio nel primo settore poi abbiamo le ultime due che sono fantascientifiche abbiamo tutto fino ad arrivare a curva nove dove veramente se hai un minimo di sottosterzo il tempo non lo fai devi avere neanche un posteriore incollato a terra ma appena hai il momento di attacco curva l'anteriore si deve tuffare dentro ebbene sono caratteristiche che esaltano lo stile di guida di Verstappen e esaltano una vettura evidentemente costruita attorno a questo stile di guida quindi chapeau a Verstappen chapeau a Red Bull però non dimentichiamoci che sta facendo Max esattamente quello che ha fatto Lewis quando si trovava tra le mani una vettura simile voi direte ma Perez e io vi rispondo ma Bottas sta facendo quello che fece Vettel quando aveva la Red Bull che lo portò ai quattro mondiali quindi morale della favola ci vogliono tutte e due le cose il pilota sto vedendo Alonso ha una faccia che non mi dico il pilota e la vettura c'è poco c'è poco da dire comunque questo è quanto infine un'altra un'altra cosa che vorrei discutere in questa puntata è la spinta di Russell a Hamilton che probabilmente in un mondo normale quella è penalità e allora che cosa è successo Russell è stato distratto dalla Ferrari che aveva sul dritto l'ha scansata però senza lasciare spazio a quello che arrivava dietro non lo hanno avvisato quindi queste cose come potete vedere succedono ovunque non voglio giustificare Xavi Marcos assolutamente però è una pecca del team Mercedes perché poteva succedere l'irreparabile fortunatamente non è successo poi parliamo di Perez perché Perez non è andato esattamente per lo stesso identico motivo per cui Verstappen si è esaltato secondo il mio parere Perez è strano dopo delle performance pazzesche inizia a non camminare più e non si capisce ancora il perché secondo me deve andare in psicoanalisi con un altro po' però questa è una pista dove ci vuole un anteriore forte e la Red Bull ce l'ha ma lui sappiamo che non gli piace tanto gli piace di più un posteriore molto forte e avere solo quello qui non funziona altra cosa che ho visto una Mercedes sì che è entrata in Q3 ma che secondo me ha veramente tanta 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 strada ancora davanti da fare infine parliamo dell'Aston Martin Alonso se c'è un gran premio cosa combini Alonso se c'è un gran premio dove effettivamente tu devi come dire andare forte è quello di casa e lui tutto l'anno ha dominato su Stroll qual è la gara dove Stroll gli passa davanti in qualifica quella di casa che sfiga e infatti ho rivisto alcune immagini forse vi accorgerete la luce è un po' diversa rispetto a quando abbiamo fatto la live perché sono dovuto tornare in pista e tornare qui però mi sono registrato un po' di robe ho rivisto finalmente ho capito come si fa salto tecnologico ho rivisto alcune immagini e devo dire che veramente non aveva una gran bella cera Alonso ci credo che sei deluso perché qui Aston Martin si aspettava tanto e questo tanto ancora non l'abbiamo visto questa è la gara dove Aston ha portato alcune ho seguito poco e quindi magari non sono le sole perché ripeto gli impegni in pista questa settimana sono stati tanti però ha portato alcune modifiche al fondo importanti quindi anche qui mi viene da dire che probabilmente servono più gare a capire la monoposto ma anche Red Bull questo ce l'aveva fatto vedere dove a Baku che aveva introdotto tante novità e non era andata bene il Gran Premio successivo ha fatto uno step in avanti rispetto agli altri che tutti abbiamo visto infine volevo raccontarvi visto che siamo sotto i 20 minuti che è lo standard di Racing Time un pochino quello che è il discorso dell'evoluzione della pista un piccolo aneddoto che riguarda un po' la mia carriera di istruttore tanti tanti anni addietro era il 2013 se non erro qui in Sicilia ci fu una gara di campionato italiano no? e io assistevo un pilota alla prima gara come telaista e come istruttore perché faccio anche il telaista in kart nella 100 Junior allora c'era la 100 Junior per questi bambinetti che dalla 60 andavano fermo le immagini sotto tanto posso rivederle dopo che dalla 60 andavano alla 100 Junior quindi facevano il salto importante e allora ci correva Boemi ad esempio che poi andò in Toro Rosso e adesso corre con Toyota nel WEC e quindi che cosa è successo? io assistevo questo se non sbaglio il ragazzo si chiamava Gaddoni alla prima gara nella Junior con un telaio correva diciamo fatto in casa perché c'erano degli amici che avevano fatto questo telaio ma era grezzo grezzo significa senza vernice con saldature fatte alla buona erano le prime armi ebbene ragazzi c'era gente che arrivava con i tir noi avevamo la vettura messa sul portapacchi della vettura il kart messo sul portapacchi della macchina però aveva piovuto durante il venerdì e allora io che cosa ho fatto? facevo le modifiche al telaio in base all'evoluzione della pista ma come capivo l'evoluzione della pista andandomi a vedere le altre categorie man mano che la pista si gommava io andavo a scaricare un pochino di tenuta il telaio per far salire di più di giri il motore nel gerco si dice per far liberare che è una leggera apertura verso l'esterno del mezzo senza la sbandata il telaio e quindi sfruttare i giri del motore ragazzi ci siamo classificati per la finale gente che arrivava con i motorhome andava a casa noi siamo entrati non solo nei primi venti partivamo settimi davanti a noi c'era Buemi nella fila davanti che poi vinse la gara quindi questo significa evoluzione della pista noi purtroppo in finale e prefinale siamo andati male perché allora venne un colpo di testa al costruttore che si impose su una scelta che io non ho mai condiviso di fatti piccolo aneddoto uscì dalla tenda e quindi il pilota poi si girò però una scelta sul telaio di assetto però intanto a quel punto lì ci siamo arrivati e la gente ci chiedeva come avevamo fatto semplice guardavamo l'evoluzione della pista ecco perché è così importante quando piove la pista si lava e poi si rigomma andare dietro alla pista anche con scelte aerodinamiche meccaniche tutto e soprattutto a costo di caricare tanta benzina rimanere fuori perché il tuo ultimo giro sarà quello della pole position di solito è così ci tenevo a raccontarvi questa piccola cosa visto che mi avete detto che queste esterne dove vi racconto un po' del mio mondo mi piacciono e io vi ringrazio per avermi dato questa opportunità e nulla poi volevo ringraziare ancora Daniele che ha avuto un sacco di pazienza con me in questi giorni è vero ho tirato parecchio a livello di impegno però dai ci sta non si fa sempre e poi ancora sono un ventenne quindi ogni tanto si può fare bene domani ci goderemo la gara spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un like un commento un iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto attivando la campanellina condividetelo nei vostri social io mi vado a fare un'oretta di sonno che ci sta tutta credetemi e poi si riparte bacio a tutti ciao ciao